In gente quantitativo di droga sequestrato, denaro, insomma ci può riepilogare quanto è avvenuto? Sì, anche in questo caso riteniamo che l'intensificazione dei servizi di contrasto alla criminalità diffusa, in questo caso voluta dal questore di Latina, abbia dato i propri frutti a vantaggio della città. Abbiamo disarticolato una banda che seguivamo da tempo e che si occupava, come avete visto anche dal materiale sequestrato, di diverse tipologie di reati che evidentemente avevano inciso molto sulla percezione della sicurezza in questa città. Abbiamo arrestato un italiano di origine calabrese e uno straniero proveniente dall'est, un ucraino, tutti e due pluripregiudicati, ai quali abbiamo rinvenuto tutta una serie di materiali che abbiamo sequestrato che ci danno la certezza che compissero reati molto gravi. Da una parte i reati contro il patrimonio, tutti quei raid che di notte in particolare venivano compiuti ai danni di esercizi commerciali da baccherie e sale slot, hanno fruttato, come avete visto, monete, banconote e soprattutto abbiamo rinvenuto l'oggetto, lo strumento con cui spaccavano saracinesche e porte, uno strumento che come avete visto è molto sofisticato, un divaricatore pneumatico che serviva a spaccare qualsiasi porta d'ingresso o saracinesca. Nel contempo abbiamo rinvenuto tutta una serie di elementi che ci danno la certezza che questi soggetti gestissero una piazza di spaccio sulla città di Latina e nei dintorni molto consistente. Abbiamo sequestrato quasi 10 chili di marijuana pregiata perché si tratta di delle inflorescenze, quindi la parte più nobile della marijuana, cocaina, eroina e moltissimi bilancini che abbiamo rinvenuto nei diversi appartamenti, a questo va sottolineato, ben 5 appartamenti, appezzamenti di terreno, baracconi e stalle che abbiamo perquisito grazie anche alla collaborazione della Polizia Scientifica e dei cinofili di Nettuno, dove abbiamo rinvenuto anche più di 20.000 euro in Banconote. Cioè sei diventato...